Uomini e donne, Lucas Peracchi è il nuovo tronista, a 27 anni viene da Piacenza e ama i tatuaggi. Quindi per una tronista che va e Silvia un altro arriva, come si legge infatti nelle anticipazioni del blog della trasmissione Uomini e Donne, nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, si siede il bel Luca Peracchi, che si definisce un ragazzo semplice e umile, anche se nasconde di avere un passato da modello dalle spalle. Troverà l'amore? Questa è un po' la domanda che tutta Italia si pone, insomma, se Lucas Peracchi troverà l'amore? Chi lo sa? Vediamo, sono curioso proprio, non sto più nella pelle, per sapere se Lucas Peracchi troverà l'amore a Uomini e Donne, di Maria De Filippi.